Salve, buongiorno, mi chiamo Francesco, vengo dalla Romania. Partiamo dal fatto che sono musicista, quindi per me la pasticceria è praticamente una grande passione. Che l'ho scoperta con la pandemia, durante la pandemia, mi sono trovato molto bene facendo impasti a casa e così. Purtroppo in quei tempi non conoscevo ancora il maestro Andrea e quindi non sapevo dell'esistenza del canale. Non so neanche se c'era ancora nel 2020, però adesso praticamente da più di un anno, penso anche di più, sto seguendo il suo canale e ho provato tantissime ricette dei cornetti sfogliati all'italiana che a me piacciono tanto. Io vivo in Romania, quindi qua non si trovano questi cornetti fatti così ai bar, quindi devo farli io a casa se voglio mangiarli. Devo dire che da quando seguo la ricetta del maestro mi trovo assolutamente benissimo. È la migliore che io abbia mai fatto. Ho provato tantissime ricette dal web, dei cornetti sfogliati, anche con i consigli di diversi pasticceri in Italia dove vado sempre in vacanza. Però la sua ricetta, devo dire che praticamente funziona quasi sempre, anche se sei all'inizio magari, sei ancora dilettante. La sua ricetta funziona e questo è stato un primo segno molto importante per me. Poi dopo ho sempre migliorato e vengono veramente straordinari. Adesso se vado in Italia non riesco a trovare un bar o una pasticceria dove posso mangiare dei cornetti migliori che questi fatti a casa con la ricetta del maestro Andrea. Poi dopo questa videoricetta dei cornetti sfogliati all'italiana è veramente importante perché dice tantissime cose, tanti segreti. Per uno come me, anche essendo dilettante in questo ambito, è stato molto importante a sapere sempre più dettagli per migliorare. Spiega tutto perfettamente chiaro e devo dire che seguo con grande piacere il suo canale. Ovviamente una volta, se avrò tempo, mi piacerebbe fare anche un corso, però questo dipende anche dal tempo. Io essendo musicista non ho tantissimo tempo per la pasticceria, ma quando ho tempo di fare delle ricette nuove assolutamente andrò sul canale del maestro Andrea. Grazie di tutto e buona giornata!